allora cari amici catanzaro catanzaro cara catanzaro io per me amici sono i giocatori del catanzaro di dei miei momenti belli che ho passato amici sono amici della città le amicizie che abbiamo fatto io e gino tante amicizie devo dire che sono nel cuore le amicizie perché le vere amicizie non si dimenticano io sono stata molto molto contenta di aver passato degli anni bellissimi bellissimi eravamo molto giovani io e gino eravamo sposati da poco avevamo un bimbo piccolo ma siamo venuti giù aspettavo già secondo e sono cresciuti al mare al mare bellissimo bellissimo penso che gino abbia lasciato una bella impronta calcisticamente e umanamente perché era un grande era un grande era un grande in tutto il mio amore era un grande in tutto vi faccio vedere guardate 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 questo è ale catanzaro questo siamo io la tua famiglia guardate guardate si vede sì sì ecco questo questo è uno dei ale catanzaro che io conservo e questo vi fa capire quanto io sono sempre con il cuore in calabria la calabria io amo la calabria amo tutto quello che è calabrese soverato che ho avuto la casa io mio marito io e gino ci siamo proprio goduti il mare di soverato gli amici soverato io spero che questo video lo possano vedere anche anche gli amici soverato dire a loro che li ricordo tutti gino fino a quando stava abbastanza bene ogni tanto si parlava dei tempi belli delle belle vittorie che ha fatto del quando arrivava alla stazione la mezzia terme che sono arrivati col treno una gioia immensa 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 gino ha avuto la fortuna di giocare milan grande grande club e catanzaro anche catanzaro grande club un grande presidente ceravolo che se lo ricordiamo sempre è stato un grande io posso solo dire che gino aveva la calabria nel cuore ce l'aveva nel cuore è stato felice contento di di lavorare perché calcio è un lavoro a catanzaro con voi con la città con con la gente voglio solo dirvi e che gino non dimenticherà mai questi anni che abbiamo passato la io devo solo salutare i miei grandi amici e cosa devo dire pensate che gino adesso sta bene lassù perché l'ultimo periodo non è stato bene stava male ed era una sofferenza per tutti per tutti per lui per noi per i miei figli penso che questo sia anche un po' il destino che devono che devono accettare che dobbiamo accettare però ricordate sempre che io la calabria ce l'ho nel cuore ce l'avrò sempre nel cuore sempre sempre perché è la mia seconda regione catanzaro la mia seconda città milano catanzaro io non so dirvi altro spero di aver dato un messaggio dal mio caro gino che da lassù protegga sempre voi protegga la squadra che abbia sempre dei risultati piacevoli che abbiate soddisfazione voi tifosi non so altro che dirvi un grande saluto un abbraccio a tutti 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 a tutti chi si ricorda di me un abbraccio ancora più grande più più forte più forte vi saluto un bacio e un abbraccio a tutti e ricordate sempre che gino è metà canto catanzarese ecco diciamo così perché ha fatto parecchi anni un abbraccio e un bacio ciao a tutti e mi raccomando bene andate tutti bene mi raccomando io vi voglio un gran bene vi voglio un gran bene ciao calabria ciao 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 ciao